Ti dico subito che alla fine di questa esperienza, che io tramite questa esperienza ho conosciuto Gianluca, il mio attuale socio, in cui abbiamo fondato Fra Diavolo. Quindi se posso dire che questa esperienza è stata negativa veramente, no. Oggi non sarei qua a parlare con te. Però ho perso tutti i miei soldi, perché è andata male. Noi abbiamo venduto le quote di questa società a un euro. 340.000 euro dopo due anni e mezzo. E credo che in realtà anche questo per me sia stato molto molto educativo. Io credo che un fallimento così importante nella vita, se poi sei una persona responsabile, serva molto perché ti fa crescere molto, perché ti butta per terra, perché in qualche modo la difficoltà probabilmente tiri fuori meglio di te. Assolutamente. E quindi questa cosa mi è servita per crescita professionale. Non avresti fatto poi Fra Diavolo e tutto il resto se non ci fosse stato questo fallimento. I fallimenti sono importanti, perché provi, provi, provi. Tu hai investito 340.000 euro, ovviamente insieme agli altri dell'NBA. Ci hai provato? Sei morto? Bene, benvenuti in questo nuovissimo episodio dell'1% Podcast. Oggi abbiamo un'altra persona, un altro super ospite, che è Mauro Del Rico, ed è parte dell'1%. Mauro è il fondatore, AD, presidente, ho messo un po' tutto, di una catena che se non la conosci, come dico sempre, non so dove ti sei nascosto, negli ultimi 3-4 anni, penso, 5 anni, e sono cliente, come ti ho detto prima del podcast, perpetuo, nel senso che io e mia moglie e la famiglia, molti del team, ci veniamo spesso, che è Fra Diavolo. Ora, Mauro, spiegaci un attimo tu, diciamo, presentati tu, perché io ho magari dato una presentazione, come dico sempre, magari non è così specifica, quindi lascio sempre in questo podcast, tu lo segui, no, mi hai detto. Sì, assolutamente, ne sono un fan. Spiegaci un attimo la tua presentazione, chi sei, cosa fai, oltre a quello che ho detto io. Partendo da Fra Diavolo, sono un cofondatore di Fra Diavolo, insieme a Gianluca Lotta, con cui abbiamo iniziato questa avventura nel 2018, 2 agosto 2018, e mi piace raccontare che dopo meno di un anno e mezzo che questa avventura stava calcando, come dire, anche abbastanza bene, è arrivato il Covid. E quindi questa è una caratteristica per me molto importante che fa parte della mia presentazione. Anche perché cinque anni fa, giustamente, è arrivato subito il Covid. Sì, sì, sì. Poi, al netto di questo, insomma, in realtà, bazzi con il food da diversi anni. A un certo punto avevo anche deciso di uscirne, perché volevo cambiare settore, e poi in qualche modo mi sono rientrato dalla finestra. E quindi serenamente ho accettato che il destino del food facesse parte del mio DNA. E senti, parliosi un attimo del tuo background, che è una cosa che chiedo sempre. Quindi tu hai detto che bazzi con il food da tanti anni, no? Che è un settore che noi conosciamo con diversi clienti che abbiamo e che serviamo, con il nostro 1% local, ma non è che non sono mai entrato in questo settore nel preciso, ok? Quindi da dove parti dalla tua esperienza nel food? Quando hai iniziato? Allora, io a 21 anni lascio l'università, ero iscritto a scienze politiche, e prendo un bar in gestione. Così, non avevo esperienza. Come mai un bar? Sai il sogno del ciringhito, chiamalo così. Io in realtà nasco a Napoli, e poi ci sono trasferiti con la famiglia a Luino, sul Lago Maggiore, in provincia di Varese, e prendo un bar in gestione a Laveno, che è un posto molto carino sul Lago Maggiore. Non ti dico che è un ciringhito, perché non è vero, però in qualche modo, insomma, è una località estiva, in qualche modo lo richiamava. Ma perché ne ero appassionato. Un appassionato che avevo dentro, poi sai, a quell'età fa anche fatica a capire quanto questa passione sia una cosa solida o sia un fuoco di paglia, chiamola così. Avevi, mi hai detto, 22 anni. Sì, prendo questo bar in gestione, il bar va abbastanza bene, dopo meno di un anno lo vendo, apro una discoteca, va abbastanza bene, vendo la discoteca, parto per un viaggio a New York, in realtà poi sto via 6-7 mesi, poi torno, riprendo il primo bar, questa volta lo compro e lo tengo per 5-6 anni, e diventa poi di fatto la mia attività. Va benissimo, l'esperienza di vita bellissima. Il bar l'hai preso sempre lì? Sì, sempre da bene. Poi bellissimo, l'esperienza di vita bellissima. L'ho trasformato con il mio socio da allora in un bar serale, e puoi immaginare quando hai 25-26 anni e sei cliente, e sei il proprietario di un locale del quale vorresti essere cliente, insomma mi ritengo fortunato. Mi sono divertito, mettiamola così. Non ho guadagnato grandi soldi, probabilmente più quelli che ho speso che ho guadagnato, ma almeno per divertirmi. E quando lavoravi ti divertivi anche? Molto di più. Era un po' tutto? No, molto di più. Infatti guarda, lo dico ancora con sorriso, perché quando ci penso non posso non sorridere. Avevi qui avevi 28-27-28 anni. 26-27 anni, quindi una testa abbastanza vuota a perdere, una grande maturità, devo essere onesto. Però mi è sempre piaciuto approfondire, questo sì. E quindi la decisi poi di approfondire i cocktail, diventai barman Ibels, quindi una serie di studi. Poi però il sogno dell'impresa, in testa ce l'avevo già, di creare un'impresa importante. Ai tempi era un sogno, potrei dirti, abbastanza opaco, insomma, dalle tinte molto fosche. Non l'avevi messo giù per iscritto, chiaro. Quale fosse la direzione no. Però una cosa l'avevo capita, è che avevo bisogno di riprendere a studiare. E quindi lavoro e riprendo gli studi. Ok, e quale indirizzo hai preso? Ero già iscritto a Scienze Politiche, per non buttare via quei 5-6 esami che avevo fatto, decido di continuare, sposto tutto però su un'indirezione economica, e alla fine mi lavoro in Scienze Politiche, con indirizzo storico-economico. Ma questo perché avevo capito che, insomma, l'economia da conoscere è importante, tanto quanto il diritto, quindi mi servivano un po' di basi teoriche sulle quali puoi costruire, come dire, un'impresa che avesse delle fondamenti un po' più solide. Perché un conto è saper dare il servizio e un conto è saper gestire un'impresa. Sono due cose differenti. Cosa ne pensi? Io credo che sia totalmente differente. Io credo che, guarda, magari facciamo un piccolo salto, ti do una mia opinione. Io credo che uno dei problemi probabilmente che ha l'imprenditoria italiana, o gran parte dell'imprenditoria italiana, e non è, evidentemente, la mancanza di creatività. Penso che in questo siamo maestri. È probabilmente un po' di disciplina, un po' di studio, spesso. Perché alcune cose vanno affrontate in maniera, insomma, molto... Con una conoscenza teorica che alle spalle ci deve essere e con una competenza che deve essere molto approfondita o comunque molto specifica nel settore nel quale tu operi, no? A volte queste cose, a me, sono un po' sottostimate. Questo è venuto fuori anche con due podcast che abbiamo fatto. Non so se l'hai visti con Mirko Gasparotto, detto la stessa cosa, e Leonardo Leone. Siamo creativi, noi italiani siamo creativi, ma siamo anche troppo emotivi. Nel senso che molte volte un'azienda, anzi, l'azienda non molte volte, è fatta di numeri. Io dico sempre ai nostri clienti mai ascoltare le emozioni, guardare sempre i numeri, a parte quando c'è da celebrare i successi. Allora va bene. Però per il resto è un numero, giusto? Guarda, noi abbiamo... Dico l'altro salto. Io sono un maniacale sul controllo di gestione. Abbiamo applicato il controllo di gestione a Fra Diavo dal primo punto vendita. totalmente diseconomico, perché in quel caso lì, perché sono dovuto partire subito su un software molto articolato, un ERP, quindi con distinte basi per ogni singola pizza, inventari settimanali, inventari teorici, informatizzati, quindi tutta una serie di cose molto evolute, che per oggi sono un po' la nostra forza, devo essere onesto. Quindi per me questa è la base. Però queste cose, se non è un minimo di conoscenza di economia, o di questi aspetti, fai fatica a pubblicarle. Certo, assolutamente. Adesso ne parliamo perché è molto interessante questo. Mi sono già vinto due o tre domande in mente. Torniamo alla tua storia. Quindi sei arrivato, avevi la discoteca, poi hai venuto a discoteca, sei andato, mi hai detto a New York. Sei tornato. Sei tornato. Preso il bar. Bar, poi? Lanciato. Sì. Andato molto molto bene. Mi rimetto a studiare, perché capisco che quella roba lì ormai mi stava stretta, ma io sono sempre stato un perenne, come dire, questo conflitto interiore costante, continuativo di insoddisfazione, no? Per cui questa quasi frustrazione interna perché volevo cercare di fare di più. questa energia in potenza che non riuscivo a mettere in aline. Ci erano un po' tutti gli imprenditori. Che in atto non riuscivo a mettere, quindi ero continuamente, come dire, dentro combattuto, diciamo così. Quindi mi metto a studiare, insomma, prendo la laurea e nel frattempo poi inizio, cambio lavoro, perché poi a quel punto lì avevo il sogno comunque di cambiare lavoro, di vedere altre esperienze. Entro a far parte di un consorzio turistico, era il ministro pubblico privato, di cui divento il direttore dell'area leisure, dello sviluppo dell'area leisure. Partecipo a un bando e dopo tre anni poi sviluppo questa cosa, che era un concetto di bike hotel, siccome lì c'è una forte cultura sportiva legata al mondo della bicicletta, da sviluppare in provincia di Varese. Ok. E lì mi scontro anche una roba che poi ho capito che non fa per me, in parte anche con la politica, perché uno di miei sogni è anche poter in qualche modo toccare il mondo della politica. E non è andata benissimo perché evidentemente non ho il fisico due role per fare questo. Mancava ancora qualche nozione. Sì, ma poi anche credo che uno debba anche avere una certa attitudine. non si è nati per fare tutto. Quindi non è più nei piani entrare in quella parte? No, no, ti direi di no. Ti direi che ho capito serenamente che non fa parte con la mia velocità di esecuzione. Ok. Mi piace andare molto veloce, lì invece si tratta spesso di trovare compromessi che per me sono nobilissimi, anzi, l'arte del compromesso sia proprio un'arte, ma non rientra proprio molto nelle mie corde e quindi faccio un po' fatica a questo punto di vista. Capisco quello che hai detto, ho capito quello che intendi. Eh, quindi un po' fatica. Da lì capisco che non bastava ancora e quindi mi iscrivo a un executive MBA, quindi faccio un master in business administration alla Bologna Business School. Una delle esperienze più belle della mia vita. Questo ti autofinanziavi per farlo. Sì, sì, sì. Io ho sempre creduto molto in investire in me stesso, nel senso che ogni persona dovrebbe investire proprio in se stesso. Cosa ne pensi di investire te stesso? Cioè, che tipo di... Rispetto agli altri investimenti? Come lo vedi? Io penso che banalmente, non vorrei sembrarti troppo banale in questa cosa, noi abbiamo una cosa che è noi stessi che è la cosa migliore che abbiamo. Sì. E quindi la misura in cui tu investi in te stesso è il momento che non stai sbagliando. Qualsiasi cosa essa sia. E qualsiasi cosa essa sia vuol dire proprio anche se apparentemente distante a dove tu pensi debba andare. Uno degli studi che io più piacevolmente ricordo di scienze politiche sono tutti gli studi in filosofia. Apparentemente non è molto collegato a ciò che io faccio oggi. In realtà credo che mi abbia aperto molto la mente. Quindi poi quell'apertura di mente mi ha consentito di fare altre cose. Noi diciamo sempre ai nostri clienti che ci sono tre tappi. Ok? Tre tappi che è un imprenditore ovvero o uno che vuole fare l'impresa comunque. Sì. Il tappo sull'operatività quindi tu sei mentre sei veloce vedo che parli anche veloce come me siamo due visivi vuoi andare veloce e i tempi della politica delle cose politiche erano troppo lenti quindi operatività vuol dire che sei operativo. La seconda è quello del credente. Sì certo. Se tu non miri in grande pensi che si può fare questo e invece di fare questo non riesci. e tre il tappo della leadership perché tu adesso ne parliamo avrai diverse persone che lavorano per tutti i tuoi locali per tutti i tuoi ristoranti pizzerie giusto come li chiamano? Pizzerie. Pizzerie quindi serve la leadership se tu questi tre tappi ce li hai ai bassi e non aumenti il livello di questi tappi chiaramente non puoi crescere e quindi sei d'accordo con me non so mi pare che tu dicessi la stessa cosa che investire sulla propria crescita personale per un imprenditore è fondamentale. È la base. tu prima di avviare questa cosa che sta esplodendo non possiamo dire che sta esplodendo ora ne parliamo però hai fatto hai messo le fondamenta assolutamente costruisci i livelli di una casa che ne so i piani di una casa cinque piani sei piani senza le fondamenta poi cadi fai anche il botto grosso giusto? Guarda assolutamente sì e poi non ti nascondo che un po' di fortuna ci vuole sempre io probabilmente ho avuto anche un po' di fortuna dal punto di vista professionale perché nel senso che quando io facevo questa executive MBA che per me è stato fondamentale ma anche per un altro aspetto anche per relazionarmi con persone diverse è una classe di 53 persone penso ci fossero 50 ingegneri moltissimi anche da aziende importantissime Ferrari General Electric Lamborghini quindi anche con esperienze alle spalle importanti dal punto di vista professionale e personale quindi per me è stata una fonte di crescita infinita perché quando ti circondi di persone di questo genere cresci anche tu cresci giusto? E guarda uno dei miei mantri aziendali è sempre stato ed è tuttora assumiamo persone più brave di noi io credo che sia proprio fondamentale bellissimo perché se tu assumi persone più brave di te cresce l'azienda cresci tu hai più spazio per crescere vai più veloce vai meglio forse lavori anche meno ti dirò di più vabbè tu la chiami fortuna ma sei tu che sei andato a fare l'NBA sì sì questo è vero no sì sì questo è vero questo è vero te la sei creata io non sono molto d'accordo con la fortuna probabilmente hai ragione tu probabilmente hai ragione tu e quali fortuna a parte le relazioni c'è stata una relazione due o tre che ti hanno permesso di fare il prossimo step qui a questa nell'NBA ho conoscito una serie di persone che poi sono tuttora miei amici amici anche intimi e per cui anche umanamente mi è servito tanto coincidenza vuole lì c'era il direttore generale della Bosco L'Hotel che era una catena alberghiera italiana che oggi purtroppo non esiste più e con lui insomma mi propone un lavoro e inizio a lavorare in Bosco L'Hotel e lì in questo caso invece fortuna secondo me questo lo dico ma lo dico adesso potrà sembrare controintuitivo quello che sto dicendo a un certo punto la Bosco L'Hotel purtroppo non va bene ha dei seri problemi tant'è che in qualche modo viene commissariata dalle banche e viene messo un amministratore delegato molto importante molto distending che è Luciano Fausti che veniva dal mondo di medio banca e quant'altro perché l'idea era cerchiamo è piena di asset c'è un valore patrimoniale importante cerchiamo di salvarla e quindi viene messo in piedi un piano di ristrutturazione extra giudiziale una cosa molto articolata che passa dalla vinta degli asset dalla riorganizzazione dal riassetto totale che credo sia una fortuna grandissima se tu lo vedi fare in un'azienda che non sia la tua se l'azienda non è la tua tu hai modo di imparare hai modo di imparare tantissimo io vengo scelto tra i manager che deve curare questa cosa e quindi faccio un anno e mezzo due anni di lavoro infinito trasversale da qualsiasi area dell'azienda quindi ho modo di approfondire quello che ho appena studiato ma in maniera pratica e anche con un importante stress alle spalle che lo stress aiuti a volte a rendere di più nel mio caso mi aiuta sempre e quindi faccio questa esperienza di circa due anni di manager alla fine comunque tra l'altro l'azienda viene sanata viene venuto a un fondo quindi c'è anche una bella storia perché finisce anche bene finisce bene e questo mi è servito tantissimo tu hai preso un sacco lì hai preso perché hai visto ogni area del business e tu l'hai incamerato per le tue prossime poi io volevo entrare in quell'azienda perché la mia idea iniziale era quindi ho corteggiato questo Michele che poi siamo tuttora amici perché la mia idea era per fare un'azienda grande voglio entrare in un'azienda grande e capire come è fatta certo e quindi capire quali sono le fondamenta come si sviluppano o come ci sono arrivati e tu ancora la chiami fortuna no no va bene però insomma tant'è che poi io feci di tutto anche per conoscere l'imprenditore il fondatore di questa azienda perché io volevo capire anche la sua testa come girava e capire perché probabilmente la differenza tra tanti è semplicemente quello che tu vedi che gli altri non vedono o quello che tu vorresti vedere o in qualche modo ti imponi come obiettivo io credo che i limiti siano autoavverranti è una cosa che più o meno tu hai detto prima come tappo io la definisco in maniera simile sono perfettamente d'accordo assolutamente e dopo questa esperienza come è andata cosa hai fatto quindi io l'avevo chiuso con la ristorazione l'idea era faccio altro ne ho troppo faccio altro tant'è che non le hotellerie era nel mondo comunque se vuoi dell'accoglienza che è un mondo che a me piace non ci vedevo in una fabbrica che fa bulloni con tutti i rispetto per i fabuloni però poi salta fuori che c'è un'opportunità di aprire hai mai lavorato in fabbrica? io fabbrica non ho mai lavorato no no ho mai lavorato no quello è un aspetto che mi manca nel mondo industriale in realtà adesso abbiamo anche una piccola fabbrica poi magari ne parliamo qualche modo assolutamente ne parliamo sei tornato lì sì infatti ero un po' dubitante nella risposta perché sono dicendo sì o no sì o no ma come dipendente no come dipendente no ci ho mai lavorato c'è un'opportunità di aprire Italy il format Italy in franchising a Roma con una serie di imprenditori insomma che erano in qualche modo collegati al mondo bosco perché il posto in cui sarebbe stato aperto un posto che aveva a bosco che doveva affittare loro come immobile quindi mi capito a quest'occasione mi ci butto dentro anche perché il percorso in bosco di fatto era quasi finito a me non interessava più fare il manager cioè mi aveva pagato quell'esperienza e stava tornando in me di nuovo il fuoco dell'imprenditoria quindi riesco a entrare in questo progetto investendoci quanto hai investito lì? si può dire? sì sì guarda 340.000 euro ho fatto un pool di amici buona parte degli amici erano quelli dell'NBA quelli di là che dicono di investire con me in questa società dove poi io divento di fatto il direttore di questo punto vendita che va aperto che va sviluppato le cose vanno malissimo nel senso che non tanto per Italy che tra l'altro io amavo e amo come format avevo conosciuto durante l'NBA in uno speech in Oscar Farinetti che io ritengo un genio in imprenditoria quindi mi avevo anche innamorato della persona tra l'altro e grazie a questa esperienza poi l'ho anche conosciuto molto bene quindi questo mi è servito insomma un'altra relazione importante sì sì ti dico subito che alla fine di questa esperienza che io tramite questa esperienza ho conosciuto Gianluca il mio attuale socio in cui abbiamo fondato Fra Diavolo quindi se posso dire che questa esperienza è stata negativa veramente no oggi non sarei qua a parlare con te però ho perso tutti i miei soldi perché è andata male e noi abbiamo venduto le quote di questa società a un euro 340.000 euro dopo due anni e mezzo e credo che in realtà anche questo per me sia stato molto molto educativo io credo che un fallimento così importante nella vita se poi sei una persona responsabile serva molto perché ti fa crescere molto perché ti butta per terra perché in qualche modo la difficoltà probabilmente ti riforni meglio di te assolutamente e quindi questa cosa mi è servita per crescita professionale non avresti fatto poi Fra Diavolo e tutto il resto se non ci fosse stato questo fallimento i fallimenti sono importanti perché se provi 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 tu hai investito 340.000 euro ovviamente insieme agli altri dell'NBA ci hai provato sei morto? No ma tra l'altro io lo racconto sempre perché vorrei anche un po' smontare quella sorta di onta che in Italia sia addosso se fallisci cioè se fallisci sei destinato probabilmente ad essere un fallito nella vita per sempre ed è un approccio che già in altri paesi non esiste negli Stati Uniti molte start up se non hai fatto due o tre fallimenti prima non ti considerano l'uomo giusto Google dice falliamo più di quanto abbiamo successo è il suo mantra però qui in Italia è un po' anche perché siamo un po' attaccati ai soldi cioè non si parla ma di soldi ma siamo attaccati ai soldi è vero giusto? è vero e quindi lo racconto sempre questa cosa è una delle prime cose che dico perché ci tengo anche per passare questo messaggio che non è il fatto di dire non è importante aver fallito perché è importantissimo perché ti condiziona ed è anche molto traumatico per me dal punto di vista psicologico fu uno shock e per alcuni aspetti forse non ne sono ancora uscito è proprio traumatizzato molto devo essere sincero però hai capito magari cosa non fa però è fondamentale è fondamentale perché ti aiuta a crescere ti aiuta a crescere e ti fa capire e possibilmente come non rifarlo e lì come è andata con i tuoi amici dell'NBA che ti hanno dato fiducia sei tu che hai organizzato la cosa oppure ok come è andata in quel caso? loro sono persone che umanamente sono stupende per cui devo essere onesto loro non mi hanno mai fatto in qualche modo sentire obbligato nei loro confronti in realtà io mi sento obbligato e vorrò sdebitarmi ma non me l'hanno mai chiesto loro ok tu hai proposto no ma loro hanno perfettamente consapevole sono perfettamente consapevole di cosa sia il rischio o l'impresa e hanno fatto molto seriamente e ti dico che quasi mi sono sentito mi sento più in difetto con loro che loro con me cioè loro mi hanno mai fatto pensare nulla sono più io che mi sento in difetto ok sono sincero a questo punto di vista quindi a maggior ragione ti direi persone fantastiche super e dopo di questo invece cosa hai fatto? dopo di questo cosa è successo? nel frattempo io per un tema banale di logistica vengo a conoscere Gianluca perché Gianluca è stato uno dei fondatori dello spin off di Italy a Hamburgerie d'Italy lui aveva appena ricomprato una hamburheria a Roma da un francese quindi anche lui comunque background già nel settore esatto ci conosciamo e guarda amore a prima vista nel senso che noi ci conosciamo a credo settembre ottobre del 2017 e a maggio 2018 fondiamo la prima società l'idea era quella di aprire una holding del food che fosse molto managerializzata noi pensavamo ci fosse un grande mancanza di managerialità nel food e che avesse più format all'interno ok partiamo con questa idea per questo una holding perché magari creavate più società interne in un gruppo esatto l'idea era quella ma in realtà guarda senza neanche parlare tantissimo in realtà io e lui parliamo tantissimo tutti i giorni giorni e notte anche lui è di Torino lui inizia a Monferrato poi in realtà adesso vive anche lui a Torino e ci siamo conosciuti a Roma perché ambedue avevamo questa esperienza professionale a Roma siamo incrociati là praticamente lanciamo un altro format che si chiama Luciano Cucina Italiana assieme che è un format di cucina romana deve essere un po' una via di mezzo tra la trattoria e il fine dining parte molto molto bene mettiamo in società uno chef che poi era uno chef stellato che però lo portiamo a livello di trattoria parte molto molto bene lo apriamo nel 2018 in realtà ironia della sorte il nostro commercialista insomma ci propone per questa opportunità di Fra Diavolo di aprire anche Fra Diavolo e noi prima ancora di aprire il format a Roma che poi viene aperto a settembre 2018 apriamo già Fra Diavolo a Genova che è il primo aperto il 2 agosto 2018 ok ma aspetta un attimo Fra Diavolo però è nato così me lo dissi velocemente però voglio capire bene com'è nato il format Fra Diavolo e il nome Fra Diavolo e il brand insomma il format esisteva già cioè il commercialista te l'ha proposto sì perché aveva un cliente suo che poi aveva questo pizzaiolo che aveva queste due pizzerie ok e voleva vendere in realtà lui cercava di sviluppare ok e secondo il nostro commercialista questo format aveva qualcosa di interessante quindi dice andatelo a vedere il tema è nato così né più né meno andiamo a vederlo io e Gianluca e capiamo in realtà due cose di questo format che secondo noi potrebbero essere veramente appealing per uno sviluppo futuro la prima che c'era un tema di arredi sembrava banale ma questo la pizzeria era finalmente un luogo con un'identità e non spesso un non luogo come le pizzerie sono quindi era già organizzato come adesso molto diversa ma aveva quel potenziale ok molto diversa aveva quel potenziale e poi la pizza stava cavalcando un nuovo trend di pizza che era questa napoletana moderna come c'era un po' alto per capirci che mi piace moltissimo che tra l'altro su me aveva anche un'altra cosa adesso al di là del cornicione alto basso a me piace anche me però quello può essere soggettivo c'era un passaggio che lui stava cogliendo che la pizza finalmente stava acquisendo anche un'esteticità più bella dici esatto sembra banale però sai nella pizza spesso si tende a buttare sopra gli ingredienti per quel che sono nei piatti questa cosa è una ristorazione già diversi anni che l'esteticità del piatto è parte integrante del prodotto che tu offri poi oggi con Instagram i social hanno esacerbato questa tendenza e quindi noi capiamo che in realtà sono due intuizioni non ci fosse molto di più diciamo guarda queste intuizioni sono valide quindi ce la sentiamo in pancia la verità poi è quella quindi vediamo qualcosa che probabilmente neanche lui stesso è riuscito a vedere e diciamo decidiamo di aprire la prima pizzeria in società quindi con questo socio iniziale a Genova il 2 agosto quindi in anticipo rispetto era quindi società ma non c'era franchising no 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 anche perché era il terzo punto aperto poi lui fai conto che aveva aperto due locali in sei anni sei sette anni o cose del genere quindi non c'era questa potenzialità di sviluppo e non aveva magari anche obiettivi così più grandi come i vostri no no assolutamente tant'è che poi ti faccio già un pezzo più antilla storia ne abbiamo rilevato le sue quote le abbiamo comprate e poi a un certo punto non era più interessato perché il nostro percorso non riusciva neanche a capirlo ma non lo dico in termini negativi lo dico semplicemente era diverso certo sono due percorsi due path diverse sono due strade diverse che insomma abbiamo comprato il brand abbiamo rilevato le sue quote adesso lui c'ha ancora le sue due pizzerie avanti per la sua strada sempre fra diavolo no 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 abbiamo rilevato noi lui ha cambiato brand anche perché adesso il brand è nostro l'abbiamo già comprato nel corso in cui eravamo ancora soci l'abbiamo comprato con la nostra holding di cui anche lui faceva parte poi dopo che gli abbiamo comprato le quote lui è uscito insomma quindi normale storia di divisione di percorsi ne più ne meno e quindi ci ritroviamo nel 2018 ad avere questi primi due format sostanzialmente nel 2019 in realtà per una serie di coincidenze investiamo più su fra diavolo perché dal da agosto 2018 che apriamo a Genova a febbraio apriamo a Torino il primo a marzo a Sanremo poi facciamo giugno cuneo poi facciamo luglio novara e poi arriviamo praticamente a gennaio 2020 facciamo il grande salto diciamo che adesso siamo pronti per andare a Milano pronti nella nostra testa certo era un anno che esistavamo intanto devi essere pronto sulla tua testa perché comunque anche di pizzeria per quanto voglio dire Napoli possa essere l'icona della pizzeria poi il brand lo fai a Milano certo devi passare da Milano anche perché a Milano non ci sono tante pizzerie napoletane sì sì ma non a caso perché poi comunque la città più internazionale che c'è comunque a Blasone c'è anche un bel mercato insomma Milano molto interessante molto interessante molto competitivo ma altrettanto interessante sicuramente quindi apriamo a gennaio 2020 e a marzo 2020 chiudiamo tutto per il covid quindi puoi immaginare quindi abbiamo detto scusami è aperito a gennaio 2020 proprio? 9 gennaio 2020 apriamo a Milano in Sempione che è la nostra prima pizzeria aperta eravamo come dire mi piace descriverci dove è Sempione? davanti al parco? via Agostino Bertani se tu hai le spalle l'arco della pace rimani sulla destra ok prendi quella stradina e ce l'hai subito là forse ho capito sì sai dopo il living per chi è di Milano conosce ci vado spesso con la bima per portarci la bima lì quindi ho capito più o meno a me piace descrivere la nostra azienda come un saltatore di salto lungo che prende la rincorsa sta per staccare uno gli fa lo sgambetto ecco questo è stato per noi il covid poi immaginare questo rozzone per quanti metri è andato avanti immagino poi appena aperto così stavate investendo e tutto chiuso tutti le pizzerie indebitatissimi e soprattutto ho firmato fiduzioni anche penso per i miei pronipoti fiduzioni personali anche credit non ce l'avrebbero dato quindi ero super spot per noi allora se ti sta piacendo questo contenuto è il momento di fare il prossimo passo il prossimo passo è quello di partecipare all'evento di tre giorni a Rimini codice 1% la prima volta che lo faccio ti assicuro che ti cambierà la vita se sei un dipendente professionista imprenditore qualsiasi posizione tu abbia cambierà la tua vita prima dal punto di vista finanziario e poi in tutte le altre aree trovi il link in descrizione con i bonus e tutto il resto e la migliore offerta è il momento di fare il prossimo passo e di vederci dal vivo clicca qui e senti ti fermo un attimo mentre che eravate indebitatissimi come mai come avete messo i capitali come avete finanziato questa attività una parte di capitale iniziale è ancora capitale nostro che abbiamo messo sulle prime due pizzerie è una parte in leva ok e poi dopo con siccome le prime due pizzerie sono partite bene subito devo essere sincero quindi in realtà questa cosa i flussi di cassa giravano noi sin dall'inizio abbiamo implementato come ti dicevo un sistema di gestione molto evoluto mutuato in realtà dal mondo industriale ti dico che oggi tuttora in Italia saranno nel mondo della ristorazione parlo ovviamente saranno 15 10-15 le aziende che ce l'hanno così evoluto in Italia beh se per chi ci ascolta se non siete stati a fra diavolo anche a parte la pizza che è buonissima lo confermo anch'io e non lo conoscevo prima di dirlo nel senso che già lo dicevo prima mia moglie è innamorata della pizza lo dico te l'ho detto prima del podcast lo ripeto anche adesso ma andate a vedere come lavora il timide fra diavolo con l'efficienza la velocità cioè a me piace quello non solo il mangiare io voglio anche servizio velocità oltre che l'esperienza quindi andate a vedere c'è da imparare solo dal come lavora giusto una parente questo ti ringrazio poi tra l'altro io probabilmente commetto un errore perché poi io non parlo mai della pizza perché lo do come prerequisito perché nella mia testa che sia buona deve essere prerequisito quindi parlo sempre d'altro poi in realtà poi tutto gira attorno al fatto che la pizza piace questa viene servita nei tempi giusti piace la gente si trova in un bel ambiente questo è come dire la base però ti dicevo insomma quindi grazie al fatto che avevamo questo sistema di controllo di gestione evoluto riusciamo in realtà poi anche appena arriva il covid a riuscire a chiudere tutti i bianci della società in tempo record e quindi riusciamo a ristrutturare il debito tramite il primo decreto liquidità del governo Conte quello del covid e rifinanziare il debito e avere nuova liquidità già per maggio 2020 fantastico sì questa è stata una capacità di poter arrivare in una situazione difficile a risanarci immediatamente e la velocità in questi casi è tutto velocità nel business lo dico per tutti i perfezionisti là fuori cosa che anch'io mi ci metto ogni tanto la velocità d'attacco è tutto nel mercato nel business guarda io credo che in quel caso la velocità sia stato forse il fattore critico di successo cioè il fatto che ci abbia permesso di sopravvivere mettiamola così lì capitano due cose a me piace il numero ti do due numeri che fino ad adesso non abbiamo parlato non ti avrei chiesti in ogni caso te li chiederò spero di non tediare nessuno perché poi c'è anche questo rischio in Italia mediamente ogni giorno vengono fatte 8 milioni di pizze è stato interessante ci sono circa 360 mila esercizi ristorativi di cui 160 mila fanno anche pizza quindi praticamente uno su due fa pizza quindi insomma le pizze in Italia sono importanti banale a dirsi perché tutti lo sappiamo poi quando leggi i numeri capisci che lo sono veramente insomma ok non esistono catene cioè le catene di pizzeria nel mercato Italia sono inferiori al 4% ok se questa roba qua la porti all'estero è uno 0,00 poi mettici il numero con tu ma dopo il quarto 0 ok quindi ovviamente non ci sono ok noi facciamo il podcast 1% podcast qui siamo 0,00 ah no qui siamo guarda posso dirti siamo a un per mille o un milione ah quelli sono le catene scusami ah io conosco che però non è così non ha tante pizzerie come voi pizzeria da Michele che è diversa dalla vostra diversa anche perché loro fanno tantissimo tutto franchising praticamente i punti diretti sono pochissimi non che sia sbagliato ma a moro di dio però è una sorta di autoimpiego quindi aprono un punto a campione poi mettere da Michele Sorbillo che non sono tante Sorbillo Pizium Pizium assolutamente Rosso Pomodoro ti direi sì Berberè ok sicuramente ne sto assaltando qualcuno e me ne scuso per tutti gli altri imprenditori ma non sono molto le altre non ne aggiungi molte altre però il punto è un altro se io ti dicessi oggi come oggi la catena ancora più importante per un punto di vendita è Rosso Pomodoro che nasce 25 anni fa credo che ne abbia 60-70 diretti e un'ottantina in franchising quindi se parliamo di 150 60 punti mal contati ok io ti dicessi Pizza Hut ok 19.000 punti vendita 16 miliardi di fatturato 16 miliardi di dollari ok Domino's Pizza 11.000 punti vendita ora capisci che la pizza è italiana ma i soldi li fanno gli americani li fanno gli americani se tu metti 110 punti 130 140 contro 19.000 cioè di che stiamo parlando? del vuoto cosmico vedete come pensare in grande ragazzi molte volte per pensare in grande basta guardare basta tra virgolette basta guardare i numeri del mercato tu sei in un mercato hai visto i numeri e probabilmente magari ti hanno anche un po' strecciato come dico io il modo di pensare assolutamente anche perché vai all'estero con e tra l'altro si stai andando giusto si può dire? si si ok vai all'estero adesso lo diciamo con Fra Diavolo con un prodotto italiano della qualità italiana non so se lì ti i compromessi non ti piacciono magari dovrai trovare un compromesso non lo so zero tira perché ok bene però vai lì con un prodotto italiano esplodi esplodi no? nel senso si in realtà la verità è questa cioè l'hype del brand pizza italiana è altissimo nel mondo ma è altissimo l'aspettativa è altissima è che mancano le pizzerie mancano le pizzerie ma perché c'è un motivo specifico che è il motivo per il quale non l'abbiamo capito come ho detto prima il modello non è scalabile il modello non è scalabile non è scalabile no no assolutamente il modello di pizzeria classico italiano il vero tema che noi abbiamo capito nel 2019 noi siamo arrivati a fine 2019 prima di aprire Milano che dentro la mia testa la testa di Geluca noi in quell'anno lì abbiamo fatto 130-140 mila chilometri in macchina ho dormito fuori 260 notti in un anno lo dico perché in quell'anno mi sono anche sposato e mia moglie non voleva sposare ok giustamente se questo era l'andazzo dopo parliamo anche della famiglia sì sì comunque tu l'hai sposato proprio in questo periodo l'hai sposato ho anche fatto trasloco in questo stesso periodo vabbè trasloco ci sta però sai tutto lo stesso anno fai conto che abbiamo fatto 5 ancora adesso adesso le chiedo scusa ufficialmente scusa amore mio 5 giorni di viaggio di nozze perché poi devo aprire il locale di Cuglio quindi non potevo fare viaggio di nozze insomma è un po' particolare lo rifarete o l'avete fatto gli ho promesso che l'avrei fatto ok arriverà ti chiede scusa in diretta quindi così insomma davanti a tutti che così io possa essere perdonato è come mia mamma che mio papà l'aveva portata 5 giorni a Firenze ma erano altri tempi 5 giorni a Firenze e un giorno a vedere la partita del Firenze-Milan mi sembra è magari tua mamma era anche sportiva quindi mia mamma non è sportiva per niente ancora me lo racconta la cosa che sono nato tutti gli anni vabbè lasciamo parte se no ci impelaghiamo è una brutta storia esatto esatto e insomma quei giorni hai dormito di notte insomma quando è importante poi torniamo abbiamo aperto un po' di parentesi ma è importante farlo capire quando è importante per te quando avvii in attività lavorare tanto cioè voglio dire guarda io credo che sia un pilastro cioè tu devi essere ossessivo cioè io credo che tu ne vieni a capo solo se sei ossessivo ossessivo compulsivo sì ma non c'è altra soluzione cioè tu devi pensare di pizza se la pizza è la tua attività giorno e notte e devi pensare questo giorno e notte perché solo se pensare ai giorni e notte lo farai più e meglio degli altri certo perché devi capire qual è il limite del tuo business non so se hai letto quella cosa lì ah sì sì ah guarda sono perfettamente d'accordo l'ossessione non è una malattia ma è un dono sono perfettamente d'accordo e l'imprenditore deve essere ossessionato guarda noi siamo monotematici cioè ma tuttora che il 2000 a parte come siamo arrivati ancora in nessuna parte rispetto a me vogliamo andare quindi non mi sento per nulla arrivato anzi al contrario neanche a metà percorso pensi alla pizza ovunque quando pensi pizza ma noi un anno vabbè potrei anche dirti due anni fa andiamo a fare un viaggio di lavoro a Toronto in Canada per valutare un'apertura penso che in un giorno non sto scherzando abbiamo fatto 16 a 7 km a piedi e mangiato una ventina di pizza trancio ovviamente perché poi insomma anche il corpo ha i suoi limiti per capire meglio però facciamo solo quello facciamo solo quello ma perché serve quello cioè quando lo fai per un po' di anni secondo me poi dopo ti puoi permettere di mollare anche un po' il colpo ma perché è accumulato per me tanta esperienza e capacità che poi quello che tu prima facevi in 10 ore oggi lo fai in 3 certo poi magari un team un'azienda tematizzata in un certo modo che oddio uno adesso un fine settimana lo posso anche prendere senza problemi ma è così è così assolutamente così e ti dicevo noi siamo arrivati alla fine del 2019 già in realtà nel pieno rush dell'apertura quindi avevamo poco tempo per pensare ad altro ma era già chiaro quale fosse il limite ma tanto guarda qual è il limite questo è molto interessante ma perché poi in realtà se uno vede le cose in maniera laica e il problema della laicità in Italia è che tu vai contro dei dogmi culturali che poi sono delle briglie sociali sì che è quello che blocca non so se sei d'accordo ma quello che blocca la maggior parte delle persone qui in Italia da fare quello che serve false credenze guarda io ti do ancora una volta due dati ammesso anche ma prendiamo buona leggenda ma tanto non conta in quello che voglio dirti che la pizza sia nata nel 1889 da Raffaele Esposto brand di Napoli che fa la margherita per la regina margherita ok da allora sono 150 anni non è cambiato nulla del metodo produttivo cioè si fa ancora così uguale e ci sarà un limite voglio dire se escludi il fatto che una volta si impastava a mano adesso impastano con l'impastatrice ok il resto è tutto uguale e questa roba non è scalabile perché il know-how è talmente complesso ma poi anche così impreciso e poi a questo punto dovrei toccarlo perché so già che poi gli altri 160.000 esercizi mi odieranno è così impreciso e poco professionale che in realtà non valorizza e non rispetta la materia prima cioè spiegati meglio mi spiego meglio se partiamo dall'impasto sì ok l'impasto ha un processo di fermentazione all'interno di maturazione ok che tutti sottostimano in realtà è un processo di chimica devi conoscere la chimica se vuoi fare l'impasto il nostro tecnologo alimentare questa è la frase che crea un po' di scompiglio dice che il migliore impasto a noi piace quello che era scompiglio ok il migliore impasto si fa su Excel ed ha perfettamente ragione perché è un tema di bilanciamento chimico ok e questo non vuol dire non apprezzare la materia prima anzi vuol dire valorizzarla al massimo perché ne conosci gli ingredienti ne conosci la chimica ne studi le caratteristiche l'analizzi e crei l'impasto e poi c'è un altro tema questo processo di fermentazione subisce dei sconvolgimenti pazzeschi da fattori esogeni che sono la temperatura e l'umidità quindi anche a parità di ricetta tu non avrai mai lo stesso risultato ok ma perché oggi a Milano probabilmente non c'è lo stesso clima che c'era un mese fa ma certo oppure Milano diverso dalla Sicilia ma poi non parliamo neanche se cambiamo città certo e poi calcolate anche questo calcolate eh no il problema è che noi abbiamo centralizzato l'impasto la prima rivoluzione che noi abbiamo fatto che l'impasto lo facciamo in un laboratorio nostro lo abbiamo aperto a Torino lì torna il concetto della fabbrica ok con una stanza bianca a temperatura umidità controllata e poi l'impasto lo mettiamo in tutte le pizzerie l'impasto nostro è sempre lo stesso abbiamo lavorato su quello tantissimo per un anno e mezzo con un po' di tecnologi alimentari per rendere il più digeribile possibile e per rendere uguale dappertutto e lo mandiamo a Miami e non è diseconomico quindi quando tu mi dicevi scendia compromessi no la pizza che mangerai a Miami che apriremo a fine novembre adesso insomma lo diciamo ah ce lo mettiamo l'ananas no sì anche l'ananas adesso magari sto compromesso ma secondo me tu devi avere la tua linea e poi devi avere una linea McDonald's Doce che deve essere come dire declinata secondo il gusto locale quindi Starbucks fa la stessa cosa la peperoni che in realtà è salame piccante col miele lì la faremo certo perché salame piccante col miele lì è un must lo mangiano quindi e quindi va fatto ma questo non vuol dire che toglieremo di mezzo la nostra margherita sì poi l'impasto è la cosa più importante credo nella pizza non lo so è sicuramente importantissima però quando vado a casa non la digerisco quello vale il segno prima di tornare da quella pizzeria tanto se me in questo la pizza non mente io posso raccontarti quello che voglio poi se vai a casa ti si gonfia lo stomaco perché il tuo stomaco chiama liquidi perché fa fatica a digerirla e quindi in conseguenza poi hai sete hai sete si gonfia lo stomaco basta l'impasto c'è qualcosa che non va posso anche raccontarti quello che vuoi tu però insomma il tuo corpo ti dice vuoi tu Excel ricette sopra e quindi insomma il primo aspetto è questo e quindi il tema è culturale questa roba qua non passa in Italia ok quindi ognuno tende ancora a farsi l'impasto in tutte le pizzerie tutte le mattine comunque hai già dato un'informazione importante a tutte le altre pizzerie insomma più sì ma tanto credo che questa informazione sia dettata anche dalla nostra laicità al mondo della pizzeria o della ristorazione a noi piace approfondire e studiare e quando quando noi partiamo con l'impasto così credimi ma non sto scherzando avremmo contattato insomma una sessantina di persone per? per capire come farlo ok passando dalle più importanti case di farine che poi ci dicevano che erano i loro riferimenti in termini tecnologie alimentari o quant'altro la prima e unica risposta che dicevano era non si può fare non si può fare scusate adesso è vero a parte che insomma uno dovrebbe conoscere il proprio business almeno il 20% di ogni area devi avere un approfondimento in ogni area però scusate nella panificazione sta roba la si fa da 50 anni nella pasticceria non ne parliamo neanche alcuni principi sono gli stessi mi spiegate perché nella pizza sta roba non si può fare non si può fare e quando mi dà una risposta che non è suffragata ad altri oggettivi ecco qui qui scatta il mio background dice ok ok c'è qualcosa che non va quindi ho capito che probabilmente non sei la persona corretta per me questo è un altro limite importante non si può fare sempre no no non si può fare perché siamo abituati a fare una cosa in un certo modo l'altro non si può fare se la puoi immaginare la puoi fare no ma soprattutto anche perché quando ti dicono è 150 anni che la pizza si fa così non si può fare e ti rispondo però perché 150 anni che la pizza si fa così dovremmo evolvere anche qualcosa da questo punto di vista anche 150 anni che abbiamo fatto anche le auto a motore ma l'abbiamo fatta elettrica adesso quindi infatti questa cosa se ci pensi bene è abbastanza ridicolo ma questo non vuol dire che io non abbia con Gianluca noi non abbiamo rispetto alla tradizione quello che la tradizione sia fondamentale ma debba essere un punto di partenza e verosimilmente la tradizione a suo tempo è nata come innovazione cioè voglio dire quando lui inventò la margherita era innovazione era innovazione oggi è tradizione ma ai tempi fu rivoluzionario qualcuno l'ha inventato noi siamo qualcuno possiamo cambiare un primo step è stato rivoluzionario è stato talmente importante quella rivoluzione che si è consolidata nel tempo fino a diventare tradizione quindi usi e costumi e abitudini adesso magari qualcuno può creare una nuova tradizione va innovata e voi cosa avete fatto l'avete fatto internamente se non è sai cosa l'ho fatto da solo abbiamo fatto noi poi alla fine nel cercare la costanza costanza continuativa abbiamo finalmente trovato la persona giusta che ci ha cambiato la vita professionalmente parlando perché poi è la persona che è il nostro tecnologo alimentare che è una persona squisita intanto perché è allineata a noi come valori ma poi anche un professionista pazzesco quello abbiamo costruito questo percorso per cercare di avere un impasto uguale dappertutto in tutte le pizzerie e quindi di superare questo problema che questo problema tra l'altro è un problema che è uno dei veri cruci perché la cosa difficile da superare è da portare a destra o anche da formare perché poi formare è come fare un impasto non è semplice è già il primo aspetto che ti trova subito di prendere questa altra persona e duplicarla ma non è una cosa di un giorno o due e ti rispondo con i numeri ecco perché noi abbiamo 120 pizzerie e pizzate ne ha 19.000 quindi quando uno inizia a dire non è vero basta tirare fuori questi due numeri ok c'è qualcosa che non va 120 adesso ne avete vero? no 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 dico ah in generale scusami devo dire noi come italiani abbiamo la catena che è rosso pomodoro che ne ha 120 che è la più alta esiste da 25 anni e pizzate che ne esiste da 40 di anni ne ha 19.000 ok c'è sempre qualcosa che non va ok questo è il primo aspetto e poi da lì abbiamo iniziato a ricostruire anche tutti gli altri processi quindi di stesura e di cottura semplificandoli più possibile perché anche là ci sono degli altri tappi ok che sono quei tappi che non rendono scalabile il business ovviamente questa sfida la vera sfida era dobbiamo farlo a parità di prodotto certo se non migliorandolo non devo scendere a compromessi sul prodotto zero ok ma neanche come tipologia di prodotto perché magari potevi passare da quella pizza a una pizza croccante ma è un'altra categoria non è più fra diavolo non posso andare da fra diavolo qui a Milano vado che ne so in Sicilia ancora non avete punti no sotto Roma no ok vado a Roma e trovo un'altra cosa assolutamente che è sta roba qui giusto e questa è stata la vera rivoluzione e questa rivoluzione l'abbiamo fatta durante il covid quindi il punto per cui non è scalabile è l'impasto 1 e 2 il fatto del processo di cottura il modello produttivo in generale ti direi tutto quanto il modello produttivo dall'impasto fino alla cottura non è scalabile ok ma ti dico banalmente tu immagina solo la cottura di una pizzeria stile napoletano come è insomma di moda hai un forno che lavora a 500 gradi ok hai 6 pizze dentro che devi cuocere in 60 secondi verosimilmente tutte messe dentro in tempi diversi tra metterlo un po' in fondo e un po' davanti per vedere le cotture diverse tutto questo ho fatto a occhio 20.000 variabili ok vallo a spiegare a new yorkese che deve gestire il tuo forno a new york esatto è una roba che e quindi voi come l'avete ingegnerizzata si può dire o no è un segreto no in realtà buona parte si può dire mettiamola così noi abbiamo preso un forno diverso ricostruendo le stesse caratteristiche lavorandoci anche qui un anno e mezzo con un'azienda italiana anche questa tra l'altro questo forno rievoca perfettamente la cottura napoletana quindi con pietra refrattaria e quant'altro ma è un forno che di fatto lavora in maniera autonoma quindi gestisce la pizza in maniera autonoma quindi un qualunque io che non so cosinare non so fare niente arrivo e lo so fare giusto? si perché oggi è molto più semplice farlo ok e quindi questo aspetto ci dà la possibilità un'altra possibilità che anche questa spesso non viene considerata noi non bruciamo le pizze ma quando dico non bruciamo le pizze adesso è un tema di spreco certo quindi il food costi va alle stelle perché ogni pizza che fai tra le bruci e questo accade cioè nel senso tu sai quante pizze vengono bruciate per farne una? un modello produttivo normale molto spesso le pizze non vengono bruciate ma vengono servite semi crude ok quindi c'è il problema invece che però è un tema sul cliente non faccio nome o in mente qualche pizzeria a Milano e così succede è perché il tema è che poi tra bruciarla o darla un po' meno cotta ovviamente tu cerchi di darla un po' meno cotta così non sbaglia esatto bravissimi però noi non abbiamo questo problema l'abbiamo risolto e la nostra pizza non uscirà mai bruciata e non esce neanche poco cotta perché abbiamo standardizzato la cottura della pizza così esce sempre la cottura giusta che è la cottura perfetta per essere mangiata ora questo vorrei fermarmi un attimo una lezione molto importante che su cui cerchiamo di fare l'elevo anche noi in un settore completamente diverso che è quello di io dico la leadership per rendere ci sono varie definizioni di leadership là fuori per me la leadership per rendere più semplice il successo degli altri e questo qui che quello che avete detto è diciamo la spiegazione pratica di quello che ho appena detto io di questa definizione però ti aumenta anche i margini perché tu non devi prendere quello lì che fa il pizzaiolo da 25 anni che devi pagare di più e che magari dice che lo fa da 25 anni in un certo modo poi non è così lo paghi di più può fare anche i danni in alcuni casi oppure se dice la verità è bene ma lo devi pagare di più e come lo trovi perché lo trovi uno, due, tre apri un'altra pizzeria puoi trovarlo ma poi capisci che il business non è più in mano a te però esatto non è più in mano a te perché dipendi da lui dipendi cioè quindi se vuoi farti la tua pizzeria o le tue tre pizzerie benvenga forse è anche la strada migliore non lo so ma se vuoi rendere un modello scalabile tu non hai in mano le chiavi del tuo business cioè tu non hai in mano le chiavi della tua macchina tu puoi prendere qualunque pinco pallino allineato e cultura valore zendiali sicuramente ma noi lo formiamo in un mese noi in un mese lo formiamo e lui e te lo di più anche i nostri vecchi pizzaioli quelli che facciamo tutto quanto classico e sono passati in un nuovo modello produttivo ne sono felicissimi ma per un motivo molto semplice gli è migliorata la qualità della vita perché diciamo un'altra roba che probabilmente è opportuno dire fare il pizzaiolo è usurante è tosta e vedi che sudano ma è complicato gli è migliorata la qualità della vita loro lavorano molto meglio lavorano meno lavorano meglio ed è aumentata la produttività signori e signori pizzaioli candidatevi fra diavolo le candidature sono aperte lo diciamo qui trovate il link qui sotto ti ringrazio a parte quello però veramente complimenti perché a me piace è una cosa che cerchiamo di fare anche noi lo facciamo con i copywriter lo facciamo anche con lavori molto complessi teniamo a prendere più persone junior appassionate chiaramente al lavoro ai sales stessa cosa uno dei nostri programmi che noi vendiamo ai nostri clienti è proprio quello dove formiamo i loro venditori oltre che i diri come prenderli e la cosa interessante quando prendi anche quelli più junior è anche meglio perché seguono un processo chiaro standard dove uno che ha fame chiaramente dove non sa niente diventa diventa un venditore l'abbiamo fatto con tante persone anche non importa l'età anche in tra 4 mesi comincia a vendere servizi di qualsiasi livello ad una certa costanza e quando ingegnerizzi un processo che è molto importante come quello della pizza come quello magari della vendita nel vostro caso della pizza dell'accoglienza servizio e tutto il resto questo crea valore nell'azienda crea margini crea giusto? questa è stata per noi un cambio rivoluzionario anche questo perché poi alla fine siamo usciti dal covid con questo modello produttivo ma in realtà poi qui c'è stata l'incontro con la famiglia Ferrieri con Vincenzo Ferrieri con il padre Gianni che a un certo punto loro essendo del settore noi cercavamo un fondo perché poi a un certo punto mi hanno detto adesso il covid è vero ne siamo usciti vivi ma ne siamo usciti massacrati pensiamo di avere in tasca l'unicorno quindi quella roba che ci farà fare 500 pizzerie che non ha mai fatto nessuno però vorremmo ripartire velocemente per partire velocemente abbiamo bisogno di nuova finanza iniziamo a cercare un fondo che magari possa vedere la nostra innovazione come tale e investirci in realtà qual è stato il problema iniziale abbiamo visto un paio di fondi che erano anche interessati ma poi capivamo che non volevano quagliare più di tanto perché se non conosci il problema non apprezzi la soluzione certo perché poi alla fine dici ma qual è il tema sarà vero che poi quello non è scalabile per questo motivo quando invece siamo incontrati con la famiglia Ferrieri che anche loro avevano un fondo nella loro società quindi in questo passaggio l'hanno già fatto e sapevano già del problema l'hanno ci sono sbattuti e certo loro come imprenditori del food da anni insomma poi Vincenzo aveva l'idea di creare una basket company la stessa cosa basket holding siamo lì ci siamo trovati benissimo e loro conoscendo il problema hanno detto vabbè questa è la soluzione giusta questa roba che non l'abbiamo mai vista quindi se va bene fondiamo insieme cioè creiamo fra Gesa e Serella una nuova società cui voi conferite fra diavolo noi conferiamo delle pizzerie che avevamo che comunque volevamo convertire quindi siete messi insieme esatto e il fondo che avevamo dentro hanno messo dentro x milioni di euro per fare sviluppo ma questa però ci tengo a dirlo nasce da un altro anche aspetto nostro culturale che secondo me è una cosa che va sottolineata noi abbiamo sempre pensato con Gianluca che fosse più importante lo sviluppo che il possesso che invece a volte è uno dei limiti che vedono in imprenditoria italiana tutto mio la classica azienda familiare noi non abbiamo abbiamo ceduto la maggioranza noi non abbiamo il 49% non abbiamo il 51% senza tra l'altro come dire intascare nulla adesso lo dico in maniera molto semplice perché tutto ciò che è stato messo dentro è stato messo per lo sviluppo perché noi il progetto era talmente importante poi ovvio che abbiamo il governo e la società in mano nostra cioè guidiamo noi la macchina ma perché c'è una grande fiducia anche la parte dei ferrieri con divisione e divisione e tutto però lì la scelta doveva essere per noi drastica noi preferiamo avere il 100% di uno o il 10% di un milione certo e là devi scegliere cosa vuoi fare però e noi siamo andati in una seconda direzione questo è stato un bel boost è stato eh miseria noi siamo partiti il fatti gli atti finita la due dirigenze entrati nata a Fragesa era il primo marzo del 2022 avevamo 8 pizzerie il 28 dicembre del 2022 quindi 10 mesi dopo avevamo 18 pizzerie 18 poi dammi un po' di salti poi cosa è successo poi è successo che due cose sono successi importanti nel 2023 beh quest'anno apriremo altre 8 pizzerie dirette quindi comunque la linea la stiamo mantenendo ma soprattutto ci siamo aperti al franchising che tu dici non è una novità è un po' diverso mi spiego perché perché il primo accordo di franchising l'abbiamo fatto con Massimiliano Zucchi che è il fondatore della Romana che è un altro imprenditore che ti invito ad invitare perché è una persona splendida ti invitiamo Massimiliano direttamente qui in diretta lo paghiamo insomma veramente in gamba ha 70 gelaterie ma ovviamente conoscerà il brand della Romana insomma sì 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 sono un amante anche del gelato io lo mando dopo la pizza è quello classico andiamo di pari passo è un classico e lui ha visto nel metodo produttivo lui c'è anche lui scalabilità e altro una cosa molto interessante e quindi con lui abbiamo stato un accordo di aprire 10 pizzerie in franchising in Italia ha fatto piacere che è una persona che teoricamente è anche concorrente se vuoi di Gioia Group che hanno cioccolati italiani però mi dici proprio una visione aperta da parte di Gioia ragazzi se questa è così andiamo avanti da parte di Massimiliano che dice questa è una roba che mi interessa voglio differenziare facciamolo qui siamo partiti con lui mettiamo insieme quindi non franchising autoimpiego ma fatto con imprenditori che hanno già un cognizione è sempre fra diavolo sì 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 due per dieci fra diavolo di cui due li ha già aperti uno arrivo lì uno a Torino e l'altro accordo per noi importantissimo l'abbiamo fatto con Cremonini Chef Express per il Travel Retail tu pensa che nel Travel Retail che c'è un business pazzesco Termini fa 250 milioni di passaggi l'anno cioè stiamo parlando di cifre fuori di testa praticamente non esistono pizzerie italiane cioè tu vai in qualsiasi centro commerciale perché tali sono di un aeroporto dimmi quanti format italiani trovi forse adesso qualche rimembranza qualche parte qualcosa trovi però capisci che ancora una volta l'1% del tuo podcast sono funzionari neanche in questo caso nemmeno in questo e noi abbiamo scritto un accordo con loro perché loro hanno tipo 25-30 brand sotto in gestione in sviluppo e non hanno mai siglato un accordo con una pizzeria perché per loro non è scalabile ed è il primo accordo che hanno siglato con la loro storia con la catena di pizzerie e quindi con loro stiamo lavorando per entrare nel Travel Retail quindi per noi questa è l'altra grande rivoluzione insieme ad andare all'estero fantastico vedi quando comincia comunque ad avere anche credibilità nel mercato è anche più facile prendere queste collaborazioni senti che differenza c'è perché non avete mai fatto franchising fino a questo momento con questo socio ok e che differenza c'è tra il franchising e farlo internamente tanto per dare una panoramica perché non l'avete fatto finora ecco allora abbiamo fatto finora per un motivo molto semplice perché sapevamo per esperienze pregressi anche per studi fatti che poi generalmente o il franchising è veramente strutturato bene in termini di controllo e di passaggio di know-how tipo McDonald's esatto bravissimo che è l'esempio principe che va sempre fatto secondo me o altrimenti tu dequalifichi il brand e tra l'altro ti do di più lo stesso imprenditore che ti fa la franchising sarà scontento e ne avrà anche ben d'onde inizierà in qualche modo a deviare dal prodotto principale quindi sarà negativo per lui negativo per te ok e questa cosa noi la sappiamo scientemente l'abbiamo provata e quindi non abbiamo mai usato a farlo perché secondo noi avevamo già difficoltà noi a gestire le pizzerie con un metodo classico e facciamo franchising è un po' come il primo step di Ray Kroc col McDonald's giusto? uguale quando ha cominciato con i suoi amici che giocavano a golf lì già aveva posto con i soldi e non ci mettevano la testa uguale e ti dirò di più forse ancora peggio perché almeno Ray Kroc ai tempi aveva già un metodo produttivo abbastanza anzi direi già per i tempi ingegnerizzato ingegnerizzato in maniera impressionante da che capi subito che le cose non andavano bene quando è neanche quello a volte ci metti anche un anno o due anni per capirlo e quanti soldi perdi ed è anche tardi ed è anche tardi fai danni brand, soldi assolutamente e invece adesso la nostra scelta era non vogliamo l'autoimpiego che anche quella è una scelta di franchise nobile ma non ci interessa noi vogliamo avere grandi gruppi ancora una volta che siano più bravi di noi ok cioè che loro siano prendo quello lì che già sa fare già è bravo nel settore non ho troppi dubbi che possa farlo in modo giusto ma ti dirò di più probabilmente imparo io qualcosa da lui bello bellissimo questo e quindi per questa cosa ancora una volta la dinamica di assumiamo gente più brava di noi l'idea è se io giro con 5 persone intelligenti sarò il sesto se giro con 5 idioti sarò il sesto eh certo cioè non divento l'intelligente di 5 idioti quindi anche i partner li vogliamo più bravi di noi bellissimo circondati di persone che ti fanno crescere giusto e senti un'altra domanda sono molto curioso su questa cosa quali sono se gli puoi parlare di questa roba i numeri di una pizzeria nel senso quali sono i flussi di cassa i margini quanto fatturano pizzeria in media quanto fatturate voi in generale sì sì guarda tanto credo che sia anzi opportuno di parlare di queste cose per dare dei riferimenti fa capire anche il modello di business insomma quanto allora nel 2018 la prima pizzeria che abbiamo aperto da agosto aveva fatturato scassi 300.000 euro da agosto fino a dicembre ok tieni presente che poi tra l'altro agosto e settembre di Genova sono mesi abbastanza morti perché come tutte le città si svuota che già è più avanti di molte altre pizzerie in generale nel 2019 nel 2019 le pizzerie ci fatturarono 3 milioni e mezzo di euro tutte quante assieme quanti erano? sei ok fai conto che molte aperte nell'arco dell'anno nel 2020 covid crogliamo da 3 milioni e mezzo a 3 milioni e cento ma nel frattempo apriamo un'altra pizzeria crogliamo sono 400 milioni in meno sì sì però con una pizzeria in più ok quindi con una serie di costi che in realtà poi si erano aggravati ok nel 2021 saliamo a 5 milioni nel 2022 saliamo a 13 milioni ok quindi salto però ci sono più pizzerie raddoppiate nel 2022 è il grande salto che abbiamo fatto col fondo quest'anno chiuderemo qualcosina un po' più di 20 milioni e la proiezione del 2024 dovrebbe sopra i 30 milioni ogni nostra pizzeria mediamente malcontati fattura tra i 900 mila euro e un milione circa ci sono poi i vestimenti da un milione e mezzo un milione e sei ma c'è anche qualcuno che fa 700 la media è intorno ai 900 mila euro intorno al milione scarso mettiamola così che per noi è anche la dimensione corretta perché poi è parametrata in maniera corretta rispetto all'affitto perché anche su questo poi bisogna parlarne dove aprire come aprire e quant'altro senza volermi diungare troppo noi abbiamo un EBITDA store abbastanza alto devo essere onesto che gira tra il 25 e il 35% a seconda dei punti vendita per un business fisico è tanto sì ma anche perché poi un altro aspetto che forse non ti ho detto noi abbiamo sin dall'inizio investito molto nelle risorse umane però questa è una frase fatta chiunque prende non è fatta perché ti stavo chiedendo come cavolo ho fatto a duplicarvi così velocemente perché tu fai conto che noi siamo passati da ma potrei dirti guarda credo che durante il covid avete appreso dal covid come come moltiplicarvi è un po' come se si è sparso il covid voi vi state spargendo durante ma infatti guarda io potrei dirti che l'anno peggiore probabilmente è stato un po' per tutti tra l'altro il 2022 perché tu uscivi dal covid e voglio dire ce l'abbiamo fatto invece scopri che fai fatica ad assumere scoppia la guerra in Ucraina aumentano le materie prime quindi insomma abbiamo preso l'anno con il 15% di BIDA gruppo cioè quindi fra GESA compreso l'ufficio e altro e siamo passati da 120 ci sono 30 dipendenti a 3-20 a fine anno più che raddoppiati di dipendenti però nel 2020 fine 2020 quindi prima ondata di covid avevamo appreso il primo ufficio che era un ex negozio di ortofrutta e chi lavorava in ufficio lavorava nel piano nel sopalco che era tipo insomma 15 metri quadrati forse anche meno secondo me lavorava nel sopalco perché almeno così saliva l'aria calda non c'era il riscaldamento sì però sparava solo in alto inizi molto modesti mettiamola così ok ma ci sta assumiamo una persona attraverso il rientro dei cervelli quindi questa normativa che dava la possibilità di sgravare degli oneri sociali e quindi poterti permettere persone che non ti sarei dovuto permettere in termini di costo aziendale come responsabile di risorse umane che veniva da Rolls Royce divisione aerei 15 anni tra Stati Uniti e Europa lui italiano ma che ha lavorato sempre all'estero e lui lavorava nel settore nell'area di risorse umane perché facciamo questa scelta e perché lui tra l'altro accetta questa scommessa perché la nostra idea era anche l'area di risorse umane trattiamola in maniera innovativa cioè iniziamo a porci il tema di dire come possiamo assumere delle persone fargli credere che il nostro progetto sia probabilmente ambizioso abbastanza perché loro se ne convincono dargli formazione e fargli crescere e tutto questo strutturarlo non nella classica maniera per cui come dire tutto è calato dall'alto ma crea anche i processi dal basso e pensavamo che la cosa migliore fosse ancora una volta imitare il modello anglosassone che in questo è un po' più avanti di noi e quindi prendere una risorsa che avesse il suo background ormai talmente condizionato da questo modello di lavoro che era di fatto la sua forma mentis ci ha dato una marcia in più wow fantastico quindi è il modello anglosassone non americano è un po' un misto tra i due perché poi l'ho avuto un po' in Inghilterra e un po' negli Stati Uniti ma ambi i due modelli valorizzano molto la crescita e la formazione interna però con dei processi di selezione di formazione molto intensi cioè è tutto molto strutturato tu praticamente hai messo insieme quello che e se vedi che lo fai correttamente quello che noi insegniamo nei nostri percorsi di leadership perché tu cioè praticamente è la leadership tu hai riassunto adesso la leadership hai parlato di vision valori quindi fagli credere fagli capire che è possibile quindi farli venire da voi sviluppare internamente quindi rendere il loro successo semplice e poi portarli a migliorare anche la propria qualità di vita giusto? hai parlato anche di quello questo problema è fondamentale se tanti ragazzi a volte si avvicinano alla ristorazione perché non sanno cosa fare d'altro quindi guarda questa cosa io segui un corso di leadership all'interno dell'NBA e ci fu questo generale che io consiglio a tutti di andare ad ascoltare visto che adesso siamo in tema di generali come si chiama? generale Cucchi pensione ah italiano quindi italiano ma un uomo guarda di una cultura di una capacità di analisi di una empatia impressionante e lui ci tema questo corso di leadership no? e alla fine lui dice contare una roba che io ritrovo una ristorazione un po' simile dice noi in un esercito molto spesso ci troviamo delle reclute che arrivano a fare i militari perché non sanno che cavolo fare perché non hanno lavoro ok quindi della patria non gli ne frega niente di difendere la patria ancor meno ok quindi partiamo da questa base e devono diventare degli eroi potenzialmente o comunque delle persone in qualche modo che abbiano uno spirito militaresco e quindi va tutto costruito ecco noi assumiamo delle persone che della ristorazione non gli ne frega niente molto spesso che fanno quello perché guardi in giro non so cosa fare andiamo a farlo e invece devono capire che c'è una nobiltà in questo lavoro che potenzialmente è bellissimo che ti dà mille opportunità ma glieli devi dare veramente e la prima opportunità che devi dargli è quella di crescere devono capire devono investire in se stessi io per primo tengo loro un corso di formazione su tecniche di vendita ovviamente applicate alla ristorazione piuttosto che leadership perché poi comunque quando diventi direttore di un locale gestisci magari un fatturato da un milione di euro hai 20 persone sotto hai complessità con i fornitori sei un general manager di una nobilissima impresa è un leader che gestisce una struttura che fattura un milione di euro tanta roba la media di persone assunte nelle pizzerie in Italia è inferiore a 7 ok quindi le pizzerie in Italia stiamo dicendo che sono micro aziende ok voi quanti ne avete? ad oggi siamo credo 340 340 complimenti quindi il numero è questo però questo per dirti che questo aspetto insomma è chiave fondamentale perché così riesce a crearti un team poi lo saprai meglio di me che in qualche modo poi porta avanti non ho 340 persone no però insomma fai questo anche di mestiere se vuoi creare un team che porti avanti i tuoi valori tu per primo devi farci questi valori siamo reali certo devi avanti i tuoi valori no ma tanto il team lo annusa lo sente da lontano un chilometro si dice una cavolata non so dici tanto per dire senti una domanda interessante come scegli nelle varie pizzerie chi metterà a capo degli altri perché insomma uno che dall'esperienza no uno che metti un leader sopra delle sopra tra virgolette no gestire delle persone che però ha dei valori un po' sballati o sbagli persona ti può distruggere tutto il team giusto? guarda non mi occupo più di quest'area nel senso che a capo dell'area di scorsi umani c'è Gianluca il mio socio che poi Daniele questo manager che ti ho detto che arrivava dall'Inghilterra in realtà è molto complesso il processo vengono anche fatti delle selezioni su dei gaming creiamo delle situazioni di gruppo creiamo anche dei ruoli quindi dei giochi che si basano su ruoli ed è un'attività che generalmente in realtà molto spesso viene fatta crescere dall'interno noi preferiamo che ci sia un percorso di crescita interno io ho dei ragazzi che lavorano con me che poi fanno parte della prima linea che sono un area manager che sono persone per me fidatissime ma che lavorano con me al 2015 certo sono arrivati come camerieri magari hanno fatto il percorso anche noi oggi sono ti direi i pilastri dell'azienda noi abbiamo noi abbiamo un ufficio siamo credo 24-25 non ci sono orari e non ci sono cartellini da timbrare e c'è gente che arriva alle 6 e mezza del mattino gente che arriva alle 7 questa è cultura aziendale e ti dico che c'è un attaccamento all'azienda alcuni di loro sono entrati in società con noi hanno la possibilità di prendere delle quote altri l'hanno fatto in altri business che abbiamo lanciato per noi non ho avuto grandi mentori purtroppo adesso me li cerco e me li vado a trovare ma probabilmente quando avrei potuto averne quando avrei avuto bisogno di averne non ne ho avuti grandi purtroppo ritrovarti nel percorso forse questo un po' mi è mancato quando avevo 22-23 anni e come ti dicevo prima lo dico col sorriso la testa è un po' vuota a perdere certo e quindi invece mi piacerebbe poter dar loro qualcosa in più e senti questo è super secondo me ti dico da quello che mi hai detto a parte anche i processi che hai ingegnerizzato e tutto questa parte di come tratti le persone di come le prendi come le sviluppi secondo me è la parte la vedo da quello che mi racconti dall'esterno come quella che vi sta facendo duplicare crescere così velocemente ora detto questo a proposito di duplicare crescere adesso quante pizzerie avete in questo momento aperte ad oggi 23 due in apertura a ottobre e dovrebbero diventare 30 per la fine dell'anno di cui appunto uno a novembre a Miami all'estero la prima che facciamo all'estero e poi abbiamo dove a Miami in particolare Wynwood che è questo quartiere diciamo artistico che si sta evolvendo negli ultimi anni che rispecchia molto lo spirito di Fra Diavolo tra l'altro sì molto sì siamo stati con il team settimana scorsa a intervistare il mio mentor tra l'altro uno dei prossimi episodi intervisteremo il mio mentor che ha portato un'azienda da un miliardo a quattro miliardi e mezzo di dollari quindi piccolo spoiler per le prossime siamo stati a Wynwood perché il tassista anzi quello di Uber ce l'ha consigliato confermo che è molto stile Fra Diavolo molto carino c'è un sacco quindi apriamo lì e l'obiettivo è toccare i 50 locali per il 2024 wow fantastico tra l'Italia e l'estero e da qui ai prossimi 5 anni perché tu mi hai fatto un numero no prima da quei prossimi 5 anni noi non vogliamo stare sotto i 500 locali e aprire la maggior parte all'estero perché credo che in Italia ci sia assolutamente potenzialità ma credo che la vera scommessa sia all'estero e poi è quella che a noi piace quella che ci sentiamo dentro insomma i numeri veri si fanno anche all'estero se vogliamo chiunque anche in Italia se tu prendi più ricchi d'Italia vai a vedere sono tutte persone che vendono all'estero sostanzialmente che si sono sviluppate all'estero anche no ma poi se tu hai una storia da raccontare hai una cultura alle spalle imprenditoriale e un prodotto italiano tra l'altro che piace guarda che semmai all'estero per alcuni aspetti è anche più facile ci sono delle complessità molto articolate perché poi all'estero la competizione della ristorazione è estrema però detto questo io credo che ha il mondo l'estero ha il mondo bellissimo senti ti faccio un'altra domanda voi come gestite è una domanda interessante avete mi hai parlato del fatturato mi hai parlato dell'EBITDA quindi sappiamo anche i margini in tutto il resto e complimenti di nuovo come riempite i vostri locali? nel senso li aprite in una zona strategica sicuramente ma oltre a quello marketing allora guarda la scelta della location è importantissima ma non è più come una volta sicuramente location 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 alla Hilton no oggi è molto più complesso oggi ci vuole un po' di tutto nel 2022 siamo stati premiati tra le migliori aziende retail nello sviluppo del CRM quindi noi abbiamo già un CRM tra l'altro abbiamo Salesforce come CRM l'abbiamo già iniziato a impostare a sviluppare nel 2021 quando avevamo solo sette punti venita ma secondo me era già importante andare in quella direzione quindi noi abbiamo cercato di sviluppare tutte le attività sicuramente di comunicazione online e offline l'offline secondo me è ancora importante a dispetto della preponderanza dei social ma l'offline è importante e va integrato e sicuramente i due aspetti si devono parlare tutto io voglio offline online dappertutto e quindi poi col crescere di punti venita in realtà cerchiamo di crescere di far crescere altrettanto il rapporto che abbiamo con la nostra clientela attraverso il CRM quindi attraverso attività di fidelity attraverso attività di cura del cliente di contatto con lui ovvio che più diventi grande più diventa difficile però insomma oggi c'è anche chi le fa questo? chi è incaricato? abbiamo un direttore marketing all'interno che poi è un appassionato di questo che ancora una volta è un amico storico di Gianluca che lavorava con Gianluca da anni che è cresciuto anche lui che è passato anche dai locali che ha fatto anche il direttore dei locali quindi conosce anche la dinamica operativa e poi teniamo dentro una parte abbiamo un'area marketing formata da tre persone all'interno dell'azienda e poi parte del lavoro lo esternalizziamo ok quindi anche esternalizzato e fate sia anche paid advertising quindi sponsorizzate fate un po' tutto fate? guarda assolutamente sì credo che oggi non si possa fare a meno e richiamate anche il cliente? richiamatevi dal CRM? chi lo fa? i camerieri? le persone dentro ogni singola pizzeria? ogni singola pizzeria ogni singola pizzeria cerca di la singola pizzeria crea il contatto col cliente ok poi attraverso il contatto che la singola pizzeria ha creato poi centralmente gestiamo la relazione col cliente ok e senti un'altra domanda su questo i social invece che impatto hanno? a parte l'advertising le sponsorità e tutto il resto i social come gestite i social? come fate? quanto vi portano? avete hai un'idea di questo? dei numeri? qualcosa? sì assolutamente i social noi li abbiamo quasi duplicato sostanzialmente i nostri follower negli ultimi 14 mesi 15 mesi abbiamo avuto un'esplosione anche sui social per noi quello che lo fa la padrone oggi è ancora instagram tiktok meno per quanto sia i social dei giovanissimi però probabilmente non rispecchia il nostro target ideale di clientela che va tra i 25 e i 40 anni quindi siamo un po' più instagram oriented e in seconda battuta ti direi facebook e tiktok quindi la maggior parte dell'attività la sviluppiamo su quella in realtà io sono una cosa noi sappiamo una cosa che i social rischiano di diventare poi soprattutto se parli di pizza se il tuo killer content è la pizza a un certo punto l'utente si stanca è sempre quella ma poi soprattutto vedi 50 pizza ma vuoi capire la differenza tra me e quella di un'altra pizzeria anche le foto sono tue belle quindi fai fatica magari raccontare la storia nei social esatto quindi insomma noi andiamo in quella direzione adesso diciamo di switchare rispetto a quali sono i nostri valori la storia lanciare dei contest quindi rendere l'approccio alla nostra pagina divertente quantomeno stimolante poi non puoi farlo tutti i giorni sarebbe impossibile non è questa nostra attività ma cerchiamo di uscire anche in questo caso dei canali classici anche perché altrimenti quel canale lì rischia di portarti in una spirale negativa che per essere più visto devi spendere più soldi quindi poi a un certo punto c'è sempre quello a fianco a te che ha più soldi di te certo quindi c'è questa competizione alla come dire all'adv che ti porta in un binario morto secondo me certo e invece per quanto riguarda lo stile di Fra Diavolo all'interno della pizzeria l'ha studiato il tuo socio mi dicevi sì lui è la parte artistica molto bella anche voi avete anche la rotellina per tagliare la pizza perché la rotella è una idea che ci è venuta in mente dal fatto di dire che è una pizza e convivialità e quindi c'è sempre il tema delle posate che poi sono sporche cioè non sono sporche che magari igienicamente non è bellissimo appena mangiato e tagli la pizza per tutti e quindi ci è venuta in mente questa cosa la convivialità che di fatto è la rotella la rotella la tagli per tutti e in qualche modo rende giustizia la pizza e anche molto differenziante non so non vi sto farlo da altri no no ad oggi non ce l'ha ancora nessuno ma lo stesso è noi scatole dove serviamo le posate giusto anche le scatole vero sì sono una cosa che è carina intanto igienicamente è meglio lasciare le posate all'aria aperta certo e due diventa una cosa carina quindi il mood è un po' questo cercare di stravolgere le cose di cui tu naturalmente ne avresti bisogno in modi un po' alternativi poi è bello anche quando vado mi piace molto vedere anche un po' il diciamo l'arredamento che è molto vintage ci sono che ne so i giochi di Pacman mi sembra di aver visto qualche volta c'è di tutto ma perché lui è un manico di queste cose qua quindi a lui piace il vintage poi ha un grandissimo senso estetico e quindi riesce a abbinare cose moderne a tematiche perché poi in ogni locale ultimamente ha dei temi ah ok cambiano anche un po' i tempi sì sì perché ci sono degli elementi che si ripetono e altri che cambiano ti mi viene in mente Monza che l'ha voluto chiamare Monzo e dentro sono tutta una serie di animali e quindi ritrovi uno zoo messi in pezzi vintage ok bisogna andare a Monza a vedere sì bisogna andare a Monzo ok e quindi questa particolarità che però fa parte il concetto ti dicevo della convivialità del locale del fatto che il locale abbia una propria identità e sia anche un luogo di aggregazione dove tu possa socializzare ok e questa cosa avere un ambiente caldo e accogliente stimola questo aspetto senti cambio discorso domande che faccio sempre a tutti famiglia tu hai una moglie e poi sono padre da un anno e mezzo e questa cosa mi ha felicemente sconvolto la vita perché poi ti cambia i ritmi bimbo bimba bimbo bimbo di un anno e otto mesi in realtà con un po' di più bellissimo sono follemente innamorato poi io l'ho avuto in tarda età insomma rispetto perché io ho 47 anni quindi l'ho avuto a 45 no no però insomma non l'ho avuto a 30 anni e quindi adesso la vera sfida è anche conciliare e come lo fai questo ti volevo chiedere boh intanto sarà che io mi alzo molto presto la mattina ecco questa era la domanda dopo infatti la facciamo sempre a tutti tu hai visto il podcast no come mi piace un po' punti chiare sì sì generalmente mi alzo tra 5 e mezza mi alzo quindi inizio a lavorare prima la mattina poi in maniera tale che adesso prima inizia la giornata era già poi continuata sul lavoro adesso invece lui si sveglia verso le 7 e mezza 8 io voglio essere presente per fare colazione con lui che per me è un momento bellissimo poi però vado via e torno a casa la sera quanto tempo passi con lui verso 7 e mezza 8 quando si sveglia generalmente mai quanto vorrei intanto piacerebbe passarne di più 40 minuti un'ora poi vado via e a volte anche meno poi vado via e poi generalmente torno a casa la sera tipo che ora il fatto che anche mia moglie è un'imprenditrice e lei ha un'azienda che organizza eventi per concerti di musica classica e lei vive subito su Roma quindi quando lei è a Roma col bimbo io i miei orari sono infiniti mentre quando lei è con me a Torino come in questo periodo per le 8 di sera cerco di essere a casa perché poi lui alle 9 va a letto e poi generalmente lui va a letto e io riprendo a lavorare sono le mie serate lavori tantissimo abbiamo capito è l'ossessione a che ora hai letto di solito la sera? mezz'ottima mezz'ottima quindi dormi anche poco 4 ore generalmente 5 ore 5 ore e mezza io sotto le 5 ore vado in sofferenza invece tra le 5 e le 6 ore ti invido invido tutti quelli che dormono e riescono a dormire 5 o 6 ore ne conosco tanti io devo dormire 7 ore ma io guarda una volta un medico mi ha spiegato che c'è una sorta di gaussiana del sonno per cui non è una fortuna è proprio un modo di essere la maggior parte delle persone è concentrata tra le 7 e le 9 ore poi ci sono delle curve insomma delle code scusami un po' più lunghe e un po' più corte c'è gente che ha bisogno di 9 ore e gente che ha bisogno di 5 o 6 io da diversi anni ormai posso dirti che saranno 15 anni che io sono stato in vacanza adesso un periodo che è stato agosto mi sono mai svegliato più tardi alle 6 6 e un quarto del mattino ma non perché ci fosse la sveglia perché ormai mi svegliavo mi svegliavo insomma quando siamo venuti a Miami ho portato lui videomaker ovviamente e Franco uno dei nostri leader in azienda e abbiamo dormito 6 ore e mezza più o meno una media di 6 ore e mezza sì le ho fatti un po' la mattina sempre alle 5 e mezza allenarsi poi 6 avevamo già il lavoro e quindi insomma cambia la giornata sei d'accordo con me che quando ti svegli presto cambia la giornata controlli guarda ti vedo di più io mi sono innamorato la mattina presto quando in realtà vivevo di notte quando avevo la discoteca perché quando uscivo la discoteca alle 3 e mezza 4 e mattina poi andavo a fare colazione come uscivi la discoteca nel senso uscivi nel modo giusto o un po' di traverso quell'età io credo che non so se bevessi più i clienti ok quindi c'era complicato comunque la vita bellissima non si poteva fare più di tanti anni certo in realtà quando io uscivo la mattina quando andavo a fare colazione ed erano un orario tipo le 5 e 5 e mezza l'ora che adesso mi alzo era bellissimo a me è sempre affascinato tantissimo affianato tantissimo e quindi sì insomma la giornata inizia meglio e poi se riesco la mattina quando mi alzo faccio sempre un'ora di sport e infatti lo volevo chiedere fai anche sport ti vedo messo bene per me è una droga perché per me che sport fai la mattina adesso purtroppo che ho qualche problemino fisico faccio un po' di palestra ma non mi è piaciuto fare palestra ho fatto un po' di box in passato più di qualche anno e prima ancora ma quando ero ragazzo basket quindi insomma lo sport mi è sempre piaciuto e adesso nel tempo invece per me è un antistress del quale non potrei fare a meno quanto è importante per te lo sport? ma ti direi per fare l'imprenditore mettiamola così ti direi che per me è essenziale e ti dico che un'altra cosa che ci ha unito con Gianluca noi non so quanti chilometri di corsa abbiamo fatti assieme ma in qualsiasi orario di corsa sì andata a correre insieme sì sì ma adesso non più perché lui c'è quando io parto a correre lui è già arrivato c'è una differenza una resa che non gli sto più dentro perché lui si allena più di te e si allena? lui si allena poi è più giovane ha 12 anni in meno quindi in questo caso l'età conta quant'anni avete tu e lui? io 47 lui 35 35 ok lui è mio coteano sì lui è in gambissimo perché in realtà sta facendo tutte queste cose con 12 anni in meno di me quindi è una persona veramente in gambissima posso dire che è uno dei pilastri anzi lui è il pilastro dell'azienda perché poi lui ancora più di me io sono un po' fumentino come carattere fumentino lui invece è molto pacato possiamo complementare in questo una grandissima capacità di aggregazione ok e questo nel gruppo aiuta tantissimo c'è un modo di dire non un modo di dire una filosofia dove dicono che c'è il visionario nell'azienda e poi c'è l'integratore il visionario è quello che bombarda con le idee vuoi fare di più e dà l'avviso e tutto e c'è l'altro che invece mette in pratica vi ci vedete voi due o siete entrambi i visionari? come io penso che in percentuali diverse noi siamo ambedue nel senso che ad esempio lui penso che si sia anche lui scoperto grandissimo organizzatore ha una passione per organizzazione aziendale questo secondo me è una grande opportunità quando hai uno dei soci in azienda che ha questa passione perché sta studiando tantissimo questo e sta organizzando passo dopo passo l'azienda puoi immaginare che con tutti i salti che stiamo facendo noi cambiamo dimensione una volta all'anno e tu una volta all'anno devi avere la capacità di pensare in maniera diversa e lui più di me è questo ambedue siamo visionari forse io per alcuni aspetti un po' più di lui ma forse anche perché un po' più di esperienza e quindi ho meglio metabolizzato sin dall'inizio dove sarei voluto andare perché tu sei visionario di un integratore per il momento un po' non abbia di mezzo ma forse è la percentualmente più spinta da questo punto di vista sì assolutamente ma ora un'altra domanda che noi facciamo spesso all'1% che ospitiamo qui ed è per uno che è un ragazzo o un ragazzo anche qualcuno di che non so 40-50 anni comunque un ragazzo oggi che vuole avviare una nuova attività in questo settore che consigli daresti? risparmai qualche anno di vita di errori sì guarda se no ci sono degli aspetti che so già che vengono sempre sottostimati che sono fondamentali primo la tua azienda deve leggere attraverso i numeri non ti fidare della tua pancia i numeri devono dirti la stessa roba perché se no è difficile quindi metti in piedi un controllo aziendale che si basi sui numeri non vorrei esagerare con controllo di gestione magari non è bisogno sin dal primo locale i numeri sono tutti quante volte guardi i numeri della tua azienda? non saprei dirti quante volte al giorno tutti i giorni più volte al giorno ma io ti dico che parto la mattina a guardare i conti correnti io parto con le cose proprio semplici partiamo dai conti correnti tutte le mattine perché poi il tema dei flussi di cassa insomma un'azienda muore per stato patrimoniale non per conto economico nel senso voler però insomma i numeri sono fondamentali e invece vedo che anche in tanti ragazzi giovani a volte è una cosa che sottostimano perché poi se guardi i numeri guardi la marginalità se guardi la marginalità guardi i costi allora inizi a guardare i ricavi allora inizi a capire come poter aumentare i ricavi ma come controllare i costi cioè ti porti in una spirale che in realtà ti sta facendo scendere nelle viscere della tua azienda certo che tu ne abbia 100 anzi se non fai questo a 100 non ci arrivi ma in ogni caso che tu ne abbia 100 che tu ne abbia 1 quello è fondamentale il secondo aspetto che secondo me va curato dico una cosa su questo io dico sempre i soldi sono come una donna se tu non gli dà attenzione vanno da qualcun'altra giusto? quindi se tu non guardi i numeri ogni giorno non sai nemmeno cosa dovresti fare in un'azienda assolutamente assolutamente ma poi tra l'altro quando li guardi ad esempio guardi noi abbiamo iniziato un percorso nuovo adesso ci siamo concentrati nei primi due anni tantissimo su area risorse umane e area food cost quindi materie prime ok ma perché poi le materie prime sono anche la costanza della ricetta quindi la costanza della qualità del prodotto quindi la fidelizzazione del cliente quindi c'è una catena collegatissima e altrettanto in maniera parallela perché se ti concentri sullo risorse umane non è solo un tema di costo è un tema di qualità del servizio che è fidelizzazione del cliente ok quindi in realtà questo è un cerchio che in qualche modo dovrai chiudere bene adesso abbiamo deciso è iniziato proprio la settimana scorsa un progetto sugli OPEX cioè sui costi operativi perché poi sono una merida di costi che tu sottostimi dall'assicurazione del locale ok adesso abbiamo 23 locali 23 assicurazioni a viaggi e trasferte una serie di costi no a minuterie che devi analizzare perché singolarmente cubano poco ma la somma ci fa il 18% del nostro conto economico questo 18% dovevamo leggere cosa c'è dentro eh certo se il 18% andiamo un po' ottimizzare vedere cosa possiamo fare cosa possiamo quindi come vedi i numeri ogni volta ogni giorno possono darti una nuova sfaccettatura della tua azienda che in qualche modo sottostimavi o che semplicemente non conoscevi bene è bellissimo perché ti faccio un altro esempio noi nel CRM guardiamo a volte i numeri da dove arrivano i clienti e a volte abbiamo smesso di fare delle campagne dove arrivano tanti lead che però erano un tipo di clienti che convertivano poco e non le guardavamo primo e altri che costavano di più erano quelli che acquistavano di più abbiamo raddoppiato il fatturato da subito appena abbiamo fatto questa roba qui quindi sono cioè vedere un numero tra sì e no ti fa prendere una decisione giusta o sbagliata se non lo guardi vai a tastoni giusto cioè così prendi decisione sulla base di cosa sulla base di quello che io penso che sia ma a volte ci prendi a volte no ma non è questo fare l'imprenditore super questo qui quindi due consigli abbiamo detto guardare i numeri l'altro che però guarda può sembrare controintuitivo perché io penso che l'imprenditore in qualche modo veda qualcosa che gli altri non vedono perché altrimenti non fai impresa faresti una roba che esiste già quello che funziona è sempre controintuitivo perché se no lo fanno tutti tuttavia ascoltare il più possibile i tuoi ragazzi è fondamentale apri un'impresa se sei in una ristorazione avrai due collaboratori tre collaboratori molto spesso loro hanno una visuale un'ottica di guardare la tua azienda o di guardare come il cliente ti guarda che è diversa dalla tua c'è sempre da imparare questo è difficile da conciliare con l'idea di dire sì ma io voglio andare lì e sono sicuro che là è giusto perché probabilmente hai anche ragione ma magari devi capire qual è il modo corretto per arrivarci e ascoltare le persone i collaboratori che lavorano con te è fondamentale quindi investire sui risorsi umani in maniera diversa ma quando sei piccolo non è un tema di avere chissà quale percorso di crescita o formazione è proprio un tema di un confronto noi li chiamiamo PPF dove facciamo delle conversazioni bimensili con ogni singola persona che lavora con noi noi gli chiediamo dove vuoi arrivare a livello professionale personale finanziario e trovare un modo per quando raggiungo i risultati per l'azienda farceli arrivare così navighiamo ecco questa informazione dovrei far pagare però quando mandatevi il link di paypal sotto però quando lo facciamo navighiamo sulla stessa sulla stessa barca però proceduralizziamo il colloquio con loro perché magari a volte può avvenire in modo intuitivo magari c'è chi più portato chi meno altre volte lo proceduralizziamo perché almeno siamo forzati ad avere delle conversazioni anche voi assolutamente tutta una parte che viene fatta mensilmente adesso non è proceduralizzata insomma è bellissimo complimenti grazie il terzo suggerimento che poi abbiamo visto ed è la mentalità cioè mi spiego lo dicevamo prima ma io sono convinto i limiti sono autoavveranti quindi in qualche modo non ti porre limiti nel pensiero ma questo non vuol dire non avere i piedi per terra vuol dire appunto cercare di avere una visione che è la tua visione aziendale primo e non legarti al possesso quello che dicevamo prima sì perché se no anche il possesso può essere cioè a volte credo che aprire la propria azienda a un capitale di debito per fare una crescita piuttosto che a un partner quindi equity per fare una crescita è un tema prima di tutto mentale cioè sono pronto a condividere il mio percorso con qualcuno sì o no che sia una banca che ti presta dei soldi e poi li ruola indietro o che sia un partner o un socio con il quale può condividere un percorso non sto dicendo che sia facile ma probabilmente è uno di quegli aspetti che ti aiuta ad andare più velocemente e che ti aiuta tra l'altro a crescere di più uno più uno fa dieci non fa due eh sì secondo me la somma delle persone se sono ben aggregata è maggiore al valore del singolo individuo senti non so se ne abbiamo parlato abbastanza tu mi avevi detto prima dopo parliamo anche di capire come scegliere dove aprire sì potresti dare più informazioni sì certo cioè come vai a scegliere Miami piuttosto che New York in realtà molte scelte noi le facciamo in funzione dell'opportunità che abbiamo c'è chi ha il posizionamento di fra diavolo questo secondo me è la retroterra culturale che va trasmesso tu devi sapere esattamente che prodotto è in mano o comunque devi essere aggiornato su che prodotto è in mano e quindi qual è il tuo cliente ideale e quindi cercare una destinazione che è frequentata dal tuo cliente ideale noi abbiamo una pizzeria che comunque è abbastanza qual è il vostro cliente ideale? eh noi abbiamo guarda sono io? sì in realtà guarda noi abbiamo tra i 25 e i 40 anni clienti ideali la maggior parte sono ragazze statisticamente abbiamo visto che è una percentuale più donne quanto percentuale? 55% è donne quindi singolo ragazzi singolo se volete mandare la pizza andate dal fra diavolo sì sì adesso non so quale sia il loro genere se sposate o singolo però sono donne sicuramente e il loro status volevo dire sono sicuramente donne e poi frequentazioni in ambienti dove scusami in aree dove ci sono frequentazioni serali perché abbiamo visto che la nostra pizzeria si sposa meglio in contesti dove c'è già una movida serale scegliamo solo città sopra i 100.000 abitanti ma per un motivo molto semplice noi abbiamo una verticale sulla pizza cioè noi non facciamo altro parte degli antipasti hai detto la coperta è corta se no come dire la parte tra i fritti e tra i insalati noi la verticale è pizza e se tu stai in città troppo piccole il cliente medio è abituato in ristoranti e pizzerie che hanno tutte e due posso dare un consiglio e tu me lo correggi se hai sbagliato dimmi nella ristorazione io vedo molte volte io sono nato lo dico più volte a città di castello città di castello fa 15.000 abitanti sparsi nelle campagne credo però devo vedere meglio su google però mi sembra fosse 15.000 sparsi su tante frazioni molto distribuite e sono nato addirittura sono cresciuto in un paesino che si chiama promano 600 abitanti ora se io sono un ristoratore che vuoi aprire una pizzeria ma anche qualcos'altro perché non è meglio spostarsi in un centro con molte più persone cioè lì aprire investire magari costa meno l'affitto costa meno c'è qualcosa che costa meno ma costa di più perché non hai persone che vengono guarda noi avevamo due pizzerie una a Cuneo e una a Sanremo andavano anche abbastanza bene le abbiamo vendute perché Cuneo fa 50.000 abitanti ma credo che sia la provincia d'Italia con più bassa densità di popolazione che 50.000 abitanti li fai in un raggio che è grande eppure abbiamo diversi casi di studio lì a Cuneo sì sì no no verissimo ma perché lì c'è il tema verticale sulla pizza non funziona o funziona meno perché sono abituati al ristorante e pizzeria Sanremo per motivi molto molto simili anche se c'è una buona percentuale di turisti ma poi la stagione è corta e quindi sì pensa che nonostante questo non abbiamo addirittura escluso le città sotto i 100.000 abitanti quindi io sono cresciuto in un paesino di 16.000 abitanti che è Luino ma in realtà era un paesino vicino a Luino di 100 abitanti quindi guarda la storia ti direi simile si chiama Roggiano per la cronaca non so neanche se esiste ancora è talmente piccolo che avete una venimiata non penso che Google abbia ancora censito questa parte di scherzi è bellissimo è un borgo piccolissimo e sì è più complicato anche perché poi il problema è che ti trovo di più è anche più complicato sbagliare perché se sbagli e siccome tutti sbagliamo è talmente piccola la cerchia dei clienti che hai che è anche difficile rifarsi in qualche modo la grande città per assurdo ti permette qualche errore in più qui a Milano ci sono quei locali non faccio nomi non solo sulla pizzeria ma quei locali che fanno schifo tanto arrivano i turisti tanto arrivano a Milano di qua di là è sempre pieno questo fa malissimo la ristorazione però un po' è vero nel senso che se tu hai più flussi turistici e non lavori con una nicchia l'errore te lo puoi permettere comunque anche in buona fede ma tanto sbagliano tutti pure noi sbagliamo chissà quante pizza al giorno però è diverso farlo in un contesto che dà la possibilità il giorno dopo di ripartire con la nuova linfa quindi tu suggeriresti di spostarlo cioè vai a aprire una pizzeria e trasferisci non stare attaccato lì dove sei nato così cazzo nel senso io trasferirmi da lì è stata la cosa più bella che abbia mai fatto per me per la mia famiglia per le persone che lavorano con noi perché lì non c'era possibilità di crescita anche se noi lavoriamo nel digital puoi lavorare da casa non trovi persone non c'è niente ma no perché è confronto è confronto tutto io sono scappato da Luino tanto c'è un posto bellissimo ci sono con piacere però è a 16.000 abitanti è in fondo a una valle da una parte c'è le montagne dall'altra c'è il lago cioè sei chiuso stessa cosa noi siamo i appennini bellissimo ma ci sono i appennini la fisionomia del territorio in qualche modo condizioni anche la forma mentis di chi ci abita sono d'accordo troppo così siamo allineati senti è stata una super intervista Mauro grazie mille perché hai dato delle perle veramente c'è tanto da apprendere io ho tanto da apprendere da quelle che sono le tue risposte magari ti ricontatterò anche per saperne di più ma a parte questo ti chiedo l'ultima domanda che gli diamo sempre a tutti cos'è per te l'1% far parte dell'1% cosa vuol dire per te? guarda una risposta semplice potrei dirti non porsi limiti per me questo è l'1% cioè non porsi limiti credere che sia realizzabile il tuo sogno quello che dicevamo all'inizio dell'intervista sì potrei dirti questo secondo me l'1% deve essere proprio quelle persone che grazie alla loro costanza capacità perseveranza forse potrei dirti una sola parola in realtà poi capiscono che tu fai sport? sì fai crossfit anche stamattina ok perfetto 5 e mezzo anch'io ah bene sai quando stai facendo una ripetizione non so panca piana sì tu fai l'ottava ripetizione della tua serie e tu pensi di essere sfinito poi c'è il bastardone che passa dietro dice fanne un'altra sì e tu riesci a farne un'altra ok ma tu hai convinto di un po' dopo magari un po' ti aiuta sì ma fai anche che ti aiuti un attimo però l'80% l'hai fatto tu ok quello è l'1% secondo me ok sono d'accordo chi va oltre i propri limiti e poi in realtà scopre che il proprio limite è spesso era mentale perché potevi fare di più potevi fare molto di più sono molto d'accordo è una caratteristica fondamentale dell'1% anche secondo me e senza quello se tu non pensi di far parte dell'1% in primo luogo non ci arrivi mai a far parte dell'1% voi fate parte dell'1% nel settore quindi ti ringrazio molto Mauro di questa bellissima intervista sicuramente magari ne faremo un'altra più avanti con piacere è stato bellissimo anche per me grazie per la chiacchierata quando sarete a 500 centi quando sarete a Miami la rifaremo sicuramente assolutamente grazie mille grazie a te e l'ultima cosa ragazzi come al solito vi è piaciuto l'episodio condividetelo vi è piaciuto l'episodio commentateci lasciateci un commento iscrivetevi ai vari canali siamo su tutte le piattaforme podcast se lo volete vedere dal punto di vista video volete vedere anche Mauro come è fatto allora toglietevi da Spotify e dagli altri andate a vedere su YouTube ripeto condividetelo e state mi raccomando allerta perché i prossimi episodi saranno anche quelli fantastici ci vediamo nel prossimo episodio 1% podcast